Allora, Matteo, volevo chiederti una cosa. Come dovrebbe essere la tua casa ideale? Allora, la casa che vorrei... mi piacerebbe che fosse in una città abbastanza grande e perché se è una città grande ha tante cose... Quindi non Perugia. Quindi non Perugia, sì. Tipo Milano oppure... Tipo Milano, Torino o, che ne so, Firenze, sarebbe bella perché Firenze è abbastanza grande, però anche molto storica. Vorresti una casa in centro o in periferia? Allora, mi piacciono tutte e due, però dipende. Se ho un lavoro in centro preferirei averla in centro, quindi anche un appartamento storico, però appunto mi piacerebbe avere un appartamento. Anche se vado in periferia mi piacerebbe avere o una casa indipendente che però è vicina ad altre case, tipo un centro di case, oppure un appartamento, perché appunto sono cresciuto in una casa da solo indipendente, con pochi vicini, quindi mi piacerebbe che in futuro se ho una famiglia, se ho dei figli, stare in un appartamento in cui ho altre persone, possiamo fare qualcosa insieme, ci conosciamo, anche divertendo, insomma può essere anche una cosa interessante. E in periferia mi piacerebbe perché, insomma, poi magari prendo la macchina posso uscire dalla città più facilmente, posso andare in città, oppure magari in periferia c'è anche un po' di natura, no? Quindi posso anche, se io, la domenica fare una passeggiata, un'escursione, posso andare in giro. Ma vorresti una casa grande o piccolina? Allora, visto che, appunto, voglio sempre l'esatto contrario di quello che ho, visto che ho appunto avuto una casa tanto grande, mi piacerebbe avere una casa piccola, però non troppo piccola, diciamo una via di mezzo, perché così è più facile se uno deve ordinare le cose, poi magari uno è più preciso, più ordinato, poi anche per pulire è più facile se uno vuole pulire la casa, e quindi mi piacerebbe una stasa magari con cinque o sei stanze, è già troppo, va bene. Che cosa non dovrebbe mancare assolutamente? Un balcone, ovviamente, se sono in un palazzo con un balcone, poi due bagni, poi cos'altro… Il bagno vorresti la vasca da bagno oppure basta anche la doccia? Ma penso anche la vasca da bagno, in genere non la uso molto, però una volta se uno si volesse rilassare va alla vasca da bagno… Ok, va bene, grazie. Grazie, grazie. 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 Grazie.